preparare un dolce senza glutine o no sarà brutto sarà secco e invece guardate che meraviglia uova zucchero sale montate bene aggiungete la fecola di patate il cacao la farina di riso mescolate dal basso verso l'alto per non smontare troppo infornate nel frattempo preparate la bagna e anche senza lievito prova stecchino perfetto dividete a metà e bagnate con la bagna che avete preparato montate la panna ricoprite il primo strato e formate un bordo di contenimento unite le amarene sciroppate procedete col secondo strato questa torta è super semplice e vi assicuro che la ameranno tutti ricoprite con del cioccolato fondente per dare il tocco di foresta nera guarnite con le amarene e voilà zu pallecca devo